Taglio del nastro quest'oggi per il nuovo punto accoglienza e accettazione da reparto di oncologia al quarto piano dell'ospedale di Cremona. Camillo Rossi, direttore generale dell'ASST territoriale, ha specificato come questo intenda essere il punto d'inizio di un percorso di cura e presa in carico del paziente integrato e multidisciplinare, un percorso che corrisponde a una strategia di attenzione alla persona. Il paziente può effettuare subito in posto di missione e dopo la prima visita o dopo il controllo tutte le prenotazioni necessarie al suo percorso di cura diagnostico e terapeutico senza dover correre da un ufficio all'altro in un luogo dedicato e attrezzato proprio per suggerire serenità già dai colori e dalla luminosità della struttura, come ha precisato il presidente di Medea Onlus e Donatello Misani. Medea è l'associazione che ha economicamente sostenuto l'acquisto degli arredi di questo punto accoglienza. Il direttore amministrativo Alessandro Abruschi ha evidenziato dal canto suo la valenza anche assistenziale della nuova struttura che si colloca all'interno di un progetto più ampio di Cancer Center.